la leader di fratelli d'italia abbiamo visto conferenze stampa di conte affollatissime ma in quel caso è intollerabile quello che è successo a reggio emilia al termine della conferenza stampa convocata per presentare l'adesione del deputato gianluca vinci a fratelli d'italia alcuni esponenti del partito compreso lo stesso parlamentare sono stati ingiustamente multati con l'accusa di aver violato le norme anti covid il caso delle multe inflitte agli esponenti reggiani di fdi è finito in parlamento e a intervenire è stata la stessa leader di fratelli d'italia giorgia meloni e intollerabile per una democrazia che si definisca a